Musica Si ripete anche stasera l'appuntamento con lo shopping sotto le stelle, un'iniziativa che già giovedì scorso ha avuto un grandissimo riscontro da parte della città. Per voi commercianti come vivete queste aperture serali anche in periodo di saldi? No, noi la viviamo positivamente, a tutti piace questa scelta, anche per una sorta di novità per la città, perché finalmente la città la vediamo piena di gente, perché altrimenti la sera alle 7-7.30 c'è il coprifuoco, invece finalmente vediamo la città, la gente che cammina, la gente che si ferma ai tavolini, la gente che si sofferma nei negozi. Al di là, dopo il risultato dell'incasso, che forse, beh, non mai diciamo, tra la crisi, tra il tempo, lascia un po' il tempo che trova. Però siamo contenti lo stesso perché per noi è visibilità. La gente di fuori viene dalla provincia, viene, vede, scopre la città nelle sue varie strade, scopre la città nei negozi nuovi, particolari, specialmente paralleli al corso, perché il corso un po' che meno, un attimino, non ha più quei bei negozi di prima. Ecco, voi che comunque siete in una strada simbolo di Arezzo, però appunto defilata rispetto al corso, seppure nel centro storico. Vedete quindi passare anche Aretini, persone che abitualmente non frequentano la zona? Perfetto, è vero. Questa strada molti Aretini non la conoscono. La conoscono più gli stranieri, perché lo straniero cerca sempre la strada più piccola, dove ci sono dei negozi un pochino più particolari. L'Aretino va sempre per il corso. Però per queste serate c'è anche l'Aretino. Un buon riscontro, si dice che quest'anno molta gente non si sia allontanata dalla città, ma comunque cosa fare? Lo trova? Sì, in questo modo sì, perché è una novità avere tre serate fino a mezzanotte con negozi aperti, tutte le luci, la gente che si incontra, la gente che si scambia veramente, il saluto perché è sempre frenetica, di corsa, via, la macchina. No, è molto positivo. A mio giudizio è molto, molto positivo. Un'altra iniziativa che ha visto protagonista a Via Madonna del Prato è stata lo scorso 30 giugno, da voi molto apprezzata. Chiediamo che la terza domenica di settembre venga riproposta, perché Via Madonna del Prato chiusa è veramente un gioiello. Allora, stasera siete qui in Via Madonna del Prato per un'altra iniziativa dopo quella di Montmartre del 30 giugno. Tu ti occupi di fare le caricature, gli Aretini ci stanno al gioco più i turisti, diciamo? No, no, ci stanno gli Aretini, sì, sì. Anche l'altra volta tanta gente si è fermata, interessata, gli piace, guardano, anche le signore guardano le caricature, sono molto ironici, autoironici. Sì, quindi è una cosa divertente. Vengono coinvolti anche i più piccoli? Sì, sì, tanti bambini vengono. Più che altro i genitori magari li spingono all'inizio, vieni, vieni, e dopo se la fan fare tranquillamente. Ecco, dopo il successo dell'iniziativa del 30 giugno, stasera vi aspettate lo stesso riscontro di pubblico? Giovedì scorso era pieno il centro di Arezzo. Sì, speriamo, dai, io ci provo, vediamo. Dovrebbe esserci abbastanza gente. Quando comincio, poi arrivano... Ecco, voi siete un gruppo di ragazzi che vi occupate di animazione, da dove venite? Io sono originariamente di Verona e adesso abito a Firenze e poi mi sono messa a collaborare con loro perché ci si conosceva e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Giovedì ad Arezzo si conferma lo shopping sotto le stelle in questa estate 2013. Sì, è il secondo appuntamento dei tre giovedì di luglio. ConfCommercio è orgogliosa di questa iniziativa perché rispetto alla precedente, della settimana scorsa, c'è molta più vuole da parte dei commercianti di vivere questa situazione, di vivere questa serata. Tantissimi in questa serata organizzeranno eventi o comunque attività all'interno del proprio negozio. Quindi è con orgoglio che praticamente il commercio in questo momento ad Arezzo sta tenendo viva la città. Perché va ribadito che oltre ai negozi aperti avete messo in piedi una raffica di iniziative da fare impressione, insomma, musica, attività per i bambini. Ci sono tantissime cose da fare in centro per viverlo finalmente. Sì, ti dico all'inizio, diciamo, quando è nato questo evento cinque anni fa, da parte dei commercianti non volevano questi eventi perché comunque distoglievano dallo shopping. Poi invece diciamo che la musica è cambiata proprio perché hanno visto che comunque facendo delle piccole attività da parte dei negozi, concerti o comunque attività per bambini è un modo per attirare il cliente. Quindi è una maturazione anche da parte dei commercianti, dell'imprenditore. Ecco, rimanendo sui commercianti, quali sono per ora le impressioni, dato che siamo anche in periodo di saldi e con le aperture serali si vede molta gente dentro ai negozi? Sì, guarda, erano partiti, diciamo, un po' in sordina e invece già dalla settimana scorsa e le vendite stanno andando molto bene, quindi sono contenti. Quindi infatti questa sera avremo un'apertura sicuramente come l'altra volta, quasi totale. In via Madonna del Prato, animate la serata per lo shopping fino a mezzanotte. Sì, una serata che vedrà protagonista la musica insieme appunto allo shopping. Questa ormai è una nuova esperienza che abbiamo iniziato già il 30 di giugno e prosegue questa sera e poi ci sarà anche la settimana prossima, giovedì 25, sempre con il trio Mozart, Rossano Taccone nel pianoforte, poi abbiamo Francesco Fidel al violino e Alberto Serpente al corno. Poi abbiamo anche un nostro amico che abbiamo trovato per strada che ci farà compagnia Vincent. Quindi diciamo una musica in fieri che si sviluppa e in qualche modo ogni volta porta delle esperienze nuove. Oggi per esempio abbiamo anche la batteria per fare delle musiche un po' più ritmate. Ecco, qual è il riscontro degli aretini, dei turisti che comunque Arezzo non è che sia proprio abituata a vedere delle esibizioni del genere in strada? Hai toccato un punto fondamentale e io sto proponendo proprio questo, cioè il fatto che le strade vengano ravvivate non tanto da qualcosa che tradizionalmente accoglie le persone e poi finisce lì, ma ci vuole una crescita attraverso la quale si riesca a esprimere non solo dei valori che sono quelli dei acquisti per esempio ma anche e soprattutto i valori della musica e una musica di un certo tipo di qualità. Anche la volta scorsa, oltre ad esserci questa specie di rivisitazione della musica classica, musica dei film, ci sono state altre tipologie come la musica jazz, la musica swing e quindi attraverso queste manifestazioni di musica un po' più colta, secondo me si riesce ad attirare anche un certo tipo di turismo che è sicuramente importante per la nostra città e abbiamo avuto un forte riscontro. Non a caso siamo stati richiesti proprio in questa strada di nuovo noi e questo ci fa molto piacere, la volta precedente addirittura abbiamo avuto molti contatti, ci hanno chiesto biglietti da visita, quindi non è solo per noi una forma di crescita ma penso soprattutto per la nostra città. Ecco, questa esperienza di fare musica in strada l'avete sperimentata anche in altre realtà o solamente qua ad Arezzo? Non l'abbiamo fatta anche all'estero perché facciamo attività comunque concertistica sia come solisti ma anche in gruppo e soprattutto con questo trio Mozart riusciamo in qualche modo a esprimerci anche diciamo nelle aree più pubbliche e questo è importante perché ricordiamoci che la cultura è sempre espressione del popolo diciamo e quindi esprime la cultura di una società per cui dobbiamo in qualche modo ritornare un po' a quella che è la comunicazione con tutte le persone. Ecco, una domanda un po' azzardata, il binomio, cultura come l'ha ripetuto più di una volta e shopping? Ma io penso che queste sono due realtà diciamo completamente diverse anche se penso che riguardano due funzioni dell'anima in cui sicuramente lei si sentirà soddisfatta nell'acquistare qualcosa e anche ad ascoltare musica, quindi sono due forme di soddisfazione per l'anima sicuramente che danno gioia, quindi venite a ascoltare la musica e comprate.